Salve a tutti gente, ben ritrovati in questo nuovo video, eccoci qui prontissimi per una nuova news che riguarda stavolta Yolanda Renga, figlia assolutamente di Francesco Renga e Ambra Angiolini che per carità l'aveva già annunciato a Silvia Toffanin, soltanto che adesso ha deciso di fare quel passo proprio ufficiale. Ebbene, gioia enorme per i fan della figlia di Angiolini e Renga che ha trovato la stabilità sentimentale grazie a un ragazzo, ragazzo bravo, un bravissimo ragazzo, uno straordinario che senz'altro ha conquistato il suo cuore e spera davvero che la sua storia d'amore non possa mai interrompersi. Bellissime le immagini scelte dalla giovane e bellissime le parole che lei ha usato per lui. Yolanda Renga e il suo fidanzato sono stati insieme a Roma, infatti la location in cui si sono immortalati è la meravigliosa piazza di Spagna. Precisamente sono stati tre gli scatti pubblicati dalla ragazza di appena 18 anni sul suo profilo Instagram ufficiale. Nel primo li vediamo insieme, mentre nel secondo ci sono le loro mani intrecciate, un simbolo che ha commosso tutto il mondo del web. Infine, ha fotografato solamente il partner. E ora i giudizi sulla nuova coppia si stanno letteralmente sprecando. Poche ore fa Yolanda Renga ha emozionato i suoi follower con le istantanee del suo fidanzato, ovviamente giovanissimo proprio come lei. Entrambi sono una meraviglia, quindi c'è già chi parla di coppia perfetta. Non ha utilizzato molte parole per descrivere quelle foto, infatti la 18enne ha semplicemente scritto, Filippo, ovvero il nome della sua dolce metà, e ha postato un cuore. Tantissimi li che al post social, nonché i commenti degli internauti, che hanno gradito notevolmente questa presentazione ufficiale. Queste le principali reazioni dei fan di Yolanda Renga, che non sono proprio riusciti a contenere l'enorme soddisfazione dopo quelle magiche foto. Hai trovato un ragazzo d'oro, sei bella e dolce, meriti tanta felicità. Che possiate vivere la bellezza di un grande amore, auguri, innamorata di voi e della felicità che hai con lui. Spulciando poi sotto i commenti, è stato possibile notare che il fidanzato, che si chiama Filippo Carrante, ha scritto, tu promettimi amiche. E lei ha risposto, potrò sempre rimanere con ti, ovvero alcuni pezzi della canzone L'addio dei comacose. A Verissimo, soffermandosi sul fidanzato, Yolanda aveva già affermato, lui è arrivato da pochissimo, come tutte le cose belle. Quando non lo cercavo è arrivato, per me è perfetto ed è una delle persone migliori che conosca. Stare vicino a me non è sempre facile, ma lui non ha mai esitato. E questo cari amici, per questa news è veramente tutto. Grazie della visione e alla prossima!